Buongiorno a tutti voi e bentornati. In questo nostro nuovo video vi presentiamo un manuale esercizi di elettrotecnica generale. Autore Danilo Tommassini, editore Libri Sandit. Il prezzo è 10,90 euro. Ecco alcuni dei contenuti. Esercizi di corrente continua, esercizi sulle reti elettriche in regime stazionario, esercizi risolti di magnetismo ed elettromagnetismo, esercizi risolti sui fenomeni transitori nei circuiti RL e RC, esercizi risolti sulle correnti alternate. Sono oltre 120 pagine, molto utile per l'elettrotecnica, impianti. Grazie per l'attenzione e se volete potete iscrivervi al nostro canale YouTube. Ancora grazie e buona giornata. Grazie. Grazie a tutti.